Intro Bella a tutti ragazzi, sono Madino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video Siamo tornati ragazzi con un nuovo video di Infinite Warfare Perché ho deciso di cambiare, cioè non cambiare un po' eh Non capite male, cioè di variare più che cambiare Perché comunque... Ok, Black Ops 2 è un gioco che mi piace tantissimo Piace a voi, piace a tutti, per carità Non lo metto in dubbio Però si può capire che dopo magari due settimane vi porto solo Black Ops 2 E un po' vi scassate il cazzo Inizialmente l'idea originale era quella di portarvi un po' di Black Ops 3 quest'oggi Solo che poi iniziando a giocare a Black Ops 3 ho proprio aperto il gioco Neanche il tempo di cliccarci sopra e mi sono reso conto che C'era tipo 15 GB di aggiornamento, non so bene di cosa, ma c'erano Allora ho detto vaffanculo, andiamo sui V Che comunque, i V ve lo dico sempre Se c'è da trattarlo una volta ogni tanto così non è neanche un brutto gioco Non mi piace da giocarlo spesso però Se c'è da farci un live ogni tanto Per carità, non lo butto via Comunque, tra una cazzata e l'altra Non trovo un nemico neanche a morire Ok, ne ho trovato un altro da dietro Allora raga, sta arrivando un fottio di gente Dopo un quarto d'ora che non ho trovato nessuno Me li sono trovati tutti davanti A me il Kbar che è più cattivo da lontano Perfetto, UAB Ottimo, io su questo gioco raga c'è un principale problema Che mi fa sempre incazzare Ossia che magari parto anche bene Faccio tante kills Poi dopo muoio una volta Muoio sei volte di fila E il risultato va a farsi praticamente fottere tantissimo Non è mai vero Non è mai vero È una barzelletta Come cazzo ho fatto a cascare giù Non capisco come abbia fatto a cascare giù Cioè gli stavo sparando Non mi ha fatto il salto doppio Che cazzo è successo Ma dai Dio bono raga Stramini ha un fastidio Ero anche in serie Cioè in serie Sette kills di fila Non sono malaccio Comunque l'Erad mi piace davvero tanto raga Mi piace tanto Ma mi serve anche un cazzo di uccide d'assalto Perché ovviamente quelli che arrivano da qua Devo farli fuori Oddio ma non l'avevo visto Lui non aveva visto me Che barzelletta Dov'è? Chi cazzo mi ha ucciso raga? Ah Colui a cui ho inculato l'arma Mi sembra anche giusto Comunque 11-2 Stam facendo una partita abbastanza carina Comunque raga Fatemi sapere una roba qua sotto a voi nei commenti Che è abbastanza importante Ho visto Ok che ultimamente il feedback si sta abbassando E Non serve neanche ripeterlo Penso sia abbastanza palese come cosa Quello che vi volevo chiedere è Voi raga Su che code vorreste vedere dei video? Perché Io ve lo dico Io I code ce li ho tutti Dal primo all'ultimo Tutti Quindi Se voi vorreste vedere un video Che cazzo ne so Su code 4 Su mv2 Su mv3 Cioè voi ditemelo raga Io ve lo porto volentieri Solamente Capite che Se Non ho collaborazione da parte vostra Che mi dite Midi vorrei vedere questo Midi vorrei vedere quello È un po' Complicato Sapere magari Quali sono io Le vostre preferenze Le vostre esigenze Da spettatori Cioè posso provare a immaginarmelo Ma ovviamente fino a un certo punto Ecco Comunque tra tutto questo È entrato un avversario Che ha già 6-2 La partita la stiamo vincendo Ma Non riesco bene a capire Dove cavolo stiano andando i nemici Più che altro Perché scusa Lo spawn era dall'altra Qua ce n'è uno Che è saltato in aria E è tornato giusto Perfetto È tornato giusto giusto per me Qua ce n'è un altro Vieni Ehi Campione Pensavi non ti avessi visto Non fotti con Midi Anche te Minchia raga che bordello Figa zio Minchia bordello No seriamente c'è un bordello Tendi gente Uh qua ce n'era uno Vediamo qua Forse posso provarlo A farlo scherzetto Però è un po' Difficile Due Ossia aspettarli direttamente qua Allora in teoria Non hanno neanche le head glitch Quindi in teoria Se io li aspetto qua E dietro son coperto Posso fare qualcosa di buono Però prima fatemi Tra gli scorcher Tiro proprio qua Easy easy Beh il compagno Mi ha rovinato lo scherzetto Correndo in mezzo Proprio dai bravo Ho fatto due kill Gli scorcher Ottimo Siamo a una kill Dal warden E la kill ce la troviamo Proprio quello fermo Ottimo Fantastico Ser di punti Non utilizzabile al momento Per quale motivo Oddio Ma vabbè Che sfiga raga Ma che sfiga Non capisco sì Che è utilizzabile Cioè è mio lo warden Sì è impossibile Che ce l'abbia un compagno Sono l'unico Che ha fatto kills Cazzo Ok vieni qua E ce n'è uno Che scappa Qua sono tutti a destra Qua Continuare a giocare bene E non perdere la concentrazione L'herad Da dove mi ha ucciso Scusami Vabbè L'herad se devo essere sincero Mi sta stupendo in positivo Perché non me lo ricordavo Così forte raga Mi sta facendo davvero Fare una bella partita Cosa Cosa Non ho capito E non voglio capire Perché sinceramente Mi ha dato un colpo Cioè io sono uscito In pre-ame Pre-fire E lui mi ha dato un colpo Non ho capito Vai girati e ammazzati E ammazzami Ok qua occhio un attimo Vaffanculo It's my time to shine Tadadon Tadadon Raga Quando sto sto gioco Uh No ma vaffanculo raga Ma sto zitto una volta Ecco adesso raga Entriamo nel periodo Di partita Di cui vi parlavo prima Quel periodo dove stai giocando bene Sembra quasi che ci sia il momentum Come su FIFA Cioè ti fai Una bella parte di partita bene Con tante kills Poche morti Poi muori Un paio di volte Ed inizi a morire Praticamente in continuazione E la partita ti si rovina In una maniera assurda È fastidioso È fastidioso Perché cazzo Se sto facendo una bella partita Più che altro una bella partita Non la etichetto tanto Dalle tante kills Quanto più dalle Poche morti Perché per me Se fai una partita con Tantissime kills E altre tante morti Non è proprio una bella Bella partita La bella partita È quella dove magari Hai fatto più di 40 kills E meno di 10 morti O comunque più di 30 kills E meno di 10 morti Comunque morendo Il giusto Ecco Non è troppo Ma Cioè perché se fai 40-0 Ovviamente è una partita Eccelsa Però anche se fai tipo 47 È una bella partita Ecco Quindi di per sé Il morire poco è importante E cazzo qua A volte ti capita Di morire 3-4 volte Di fila E il risultato Ti si sputtana un fottino A me da fastidio Da proprio fastidio Comunque dai Ora ci siamo un attimo Ripresi dopo Quel piccolo blackout Ancora Io sto salto Sto mauler Mammoth Non so che cazzo Di arma sia So solo che porca Di quella puttana Non è possibile Marato Adesso mi ha dato davvero Un'altra volta Un colpo Mamma mia Poi sarà che anche io Devo ancora imparare Certe dinamiche Perché a questo gioco Ci ho giocato pochissimo Cioè sono a prestigio 1 Cazzo è saltato fuori Questo Ah c'era anche lui Lassopra che camperava Ottimo Sono a prestigio 1 Come penso Abbiate potuto notare Quindi di per sé Non è che possa pretendere Di essere un fenomeno Più che altro Perché Non conosco le armi Non conosco Benissimo le mappe Le dinamiche Ste cazzate qua Ovvio Però comunque Non stiamo giocando male E la cosa Sinceramente mi fa piace Mi fa piacere anche il fatto Che di per sé Finalmente sia venuto Un video con una partita Abbastanza lunga Già di suo Che non devo fare 7 partite Per rendere un video Abbastanza lungo E questa sinceramente Cosa mi fa piacere Ah che belli sono Quelli fermi Raga Mi sono così simpatici Ce n'è un altro No Un colpo Sto ungherese di merda Oh sempre lui Cazzo 31 kills Ha fatto Vedi Anche lui ha fatto Tante kills Ha fatto 31 kills Però ha fatto Anche 24 morti Cioè non è che Reputi Una partita Con 31 kills E 24 morti In partito No vabbè Il compagno Mi ha fatto La mossata Qua Da proprio Da bastardo Io col claw Vabbè Di Herod Di Herod Cattivo Vedete Anche adesso 11 morti Non è che sono Tante Un numero Abbastanza normale Però 45 kills Cazzo Assolutamente Niente male Soprattutto dopo Così tanto tempo Io ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così Mi raccomando Lasciate un bel pollicione Verso l'alto Un commento Se non lo state ancora Iscrivetevi al mio canale Che mi fa sempre Molto piacere Noi ragazzi Ci troviamo Come sempre domani Con un nuovo video Per oggi Da Mirino è tutto E bella